la consapevolezza d'essere qualcun altro cerchio a firenze 77 attraverso roberto setti dizionario del cerchio firenze 77 a cura di vb aggressore e aggredito e che cosa vi accadrebbe se come dopo il trapasso vengono ritrovati i ricordi di precedenti incarnazioni a un dato punto della vostra esistenza di individui trovaste non la consapevolezza d'essere stati qualcun altro ma la consapevolezza d'essere qualcun altro che so d'essere l'aggressore e l'aggredito d'essere insomma tutto quanto una concezione ristretta che voi avete attualmente vi fa escludere di essere d'essere io e non io meditate su questi interrogativi vi aiuteranno ad avvicinarvi ad un nuovo modo di concepire la realtà 272 b 76 h